Oggi è giornata di festa a Messina. Si festeggia infatti ogni anno il 3 giugno la Madonna della lettera patrona di Messina. Questa mattina in cattedrale si è svolto il solenne pontificale preseduto da Monsignor Salvatore Muratore Vescovo di Nicosia alla presenza del clero di alcuni fedeli visto il periodo della pandemia e di autorità civili e militari. I fedeli di Messina sono molto legati alla ricorrenza. Ogni anno la città dedica la giornata del 3 giugno alla Madonna della lettera. A causa della pandemia i festeggiamenti si sono svolti senza i riti che caratterizzano questa giornata. La devozione dei messinesi alla Madonna della lettera è molto sentita ed è molto antica. Alla Madonna è stata anche dedicata una colonna votiva all'ingresso del porto cittadino alta ben 60 metri con in cima la statua in bronzo dorato raffigurante la vergine. Ogni anno il 3 giugno Messina torna a celebrare la sua protettrice. Anche quest'anno il rito è stato limitato a causa della pandemia. Il culto della Madonna della lettera si affermò nel 1716, anno in cui il monaco Gregorio Arena portò in città una traduzione dall'arbo della lettera di Maria. Da allora la città celebra la sua protettrice nel mese di giugno con una follata processione del fercolo. Il culto della Madonna della lettera si diffuse poi anche in altri centri siciliani.